Buongiorno Buongiorno Che dici Fra? Ti ho sentito Pamela che dici? Praticamente Grazie, fammi un saluto Eccolo, guarda il primo piano Quindi si avvince Firenze E quindi si è una ripresa Molto brava Molta grossimamente E' frescatissima giornata E' stata molto bella Bene, bene Come ti è stata? Tutto bene, guarda come vedi il paura del sole e il bacio belli Abbiamo detto che è Miss Eleganza Ma io ti posso parlare? Fatemi un tanto Il movimento delle testa è brut così Anche io voglio fare a te Venti Grazie 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 Grazie